Tu mi fai girar, tu mi fai girar, come fossi una bambola Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e quest'oggi sono qui per parlarvi di Morgan Lost Fear Novels numero 5 La Casa delle Bambole Eccolo qui, questo è un numero che è uscito in anteprima con un'edizione Variant, una copertina Variant A Luca Comics, ma io come ben sapete non sono stato a Luca Comics e comunque non ho preso la Variant Però oggi era il giorno di uscita ufficiale in edicola, siamo esattamente a martedì 15 novembre 2022 E' uscito questo quinto numero della Fear Novels Un numero che si presenta con la copertina ovviamente sempre di Fabrizio De Tommaso, molto bella Sicuramente è superiore alla precedente, a me come detto già più volte Fabrizio De Tommaso piace come disegna Mi piacciono le sue copertine, la scorsa non mi aveva fatto impazzire, invece questa mi piace molto di più Vediamo Morgan con uno sfondo azzurro, immerso nelle bambole, nei manichini insomma, di plastica Negli arti, qui vediamo gambe, braccia insomma In questo sfondo, questo gioco di colori molto bello, ovviamente la scritta nera Morgan Lost con rilevo bianco La scritta rossa Fear Novels, lo schizzo di sangue, il solito insomma E devo dire che mi è piaciuta la copertina di Fabrizio De Tommaso In quarta ricopertina il prossimo numero, in edicolo il 15 dicembre, Morgan Lost Fear Novels numero 6 Excalibur, con questa bellissima copertina sempre di De Tommaso Allora ragazzi, che dirvi di questo numero? Vi dico subito che mi è piaciuto anche questo, come i precedenti 4 Perché comunque queste Fear Novels, secondo me, stanno, mi stanno, non mi stanno deludendo Anzi, mi stanno piacendo più delle Scream Novels, che era la stagione precedente, insomma, la miniserie precedente Vediamo chi ha lavorato questo numero Morgan Lost è stato ideato da Claudio Chiaverotti, mensile numero 5, novembre 2022 Sono 68 pagine in bianco e nero 66 in bianco e nero Il prezzo è 4 ore e 40 La casa delle bambole, il titolo Soggetto di sceneggiatura, ovviamente, di papà, Claudio Chiaverotti Dissegni abbiamo a quattro mani Con Andrea Fattori e Matteo Mosca Copertina Fabrizio De Tommaso Lettening, Riccardo Riboldi I disegni di Fattori e Mosca Sono abbastanza classici per quanto riguarda Appunto lo stile che vediamo spesso in Morgan Lost Qui vediamo appunto che si parla di bambole Di manichini, insomma È un argomento trattato più volte Negli horror, nel thriller Morgan Lost è un fumetto thriller Che affonda anche le sue radici nell'horror Non a caso il suo creatore Claudio Chiaverotti Come ben sapete viene dal mondo di Dilan Dog Ha scritto tantissimi Dilan Dog Soprattutto negli anni 90 Comunque i disegni di Fattori e Mosca Mi sono piaciuti Perché interpretano meglio Ciò che Chiaverotti ha voluto raccontare In questa storia abbastanza malata Ecco, vediamo qui Morgan E di che cosa parla questa storia? Ragazzi, vi dico subito che mi è piaciuta Perché affonda le sue radici Come detto, soprattutto nella psiche Ancora una volta Forse uno potrà dire Ma di nuovo Perché uno può capire Alla fine, non voglio spoilerare tutto Per come va a finire la storia Ma si parla dell'amore In senso lato Nel senso anche dell'amore materno E soprattutto di uomini Che si sentono soli E che al posto di andare Comunque Come fanno molti Insomma Verso Le donne che fanno Insomma il mestiere più antico al mondo Cioè le prostitute Vanno in questa casa Infatti la storia inizia così Dove ci sono queste donne Che si vestono da bambole E che trattano i loro clienti A differenza Insomma Dipende Insomma C'è Venus Doll Che è una delle bambole Una delle ragazze Che interpreta una bambola E altre Dipende dal Dal cliente C'è il cliente Che vuole essere trattato Con un figlio Con la madre C'è chi vuole essere comandato Vuole essere tipo uno schiavetto E poi in mezzo a questi Ci sarà Il serial killer Di turno Alla quale Morgan Lost Dovrà dare la caccia Questo serial killer Uccide anche Vediamo qui Con le forbici Tutto giocherà intorno Alla figura appunto Di queste bambole E di questi uomini Che si sentono soli E che hanno bisogno Di un conforto Di sentirsi dire Ti amo Ti voglio bene Che magari nella vita Non gli dice mai nessuno E quindi pagano Queste donne Vestite da bambole Che sono anche Abbastanza inquietanti Devo dire Per Insomma Per avere conforto Morgan si insospettisce Perché ci sono dei delitti E andrà a trovare Queste bambole Queste donne Insomma Queste signore Che si vestono da bambole Di lì a poco Insomma Sarà molto importante Il ruolo Dell'amica di Morgan Cioè I Grain E si fa riferimento Anche a una storia Delle scream novels Ambientata nei Balcani Insomma Poi non posso dirvi altro Perché se no Spoilererei tanto In mezzo comunque Ci sarà Questo serial killer Che Cercherà di uccidere Le bambole Sempre per una questione Psicologica Psichica Per vendicarsi Di qualcosa Che ha subito Magari Da ragazzino Insomma Posso dirvi che La storia mi è piaciuta Anche se Chi legge Magari Morgan Lost Da tanto tempo Potrà dire Eh ma È un È un incipit Già usato Sì Non è nulla D'originale Ragazzi Non c'è nulla D'originale Perché Sulle bambole Hanno fatto Tanti film horror Hanno fatto Tanti romanzi Tante cose Sono state fatte Nel mondo horror E thriller Sulle bambole Però qui In questo caso Viene affrontato Nello stile Di chiaverotti Che secondo me Ha saputo interpretare Al meglio Tutto ciò che Magari il lettore Dove il lettore Va insomma A interpretare Va a medesimarsi Anche in questo Anche se Un po' difficile Medesimarsi in questo Visto che si parla Di uomini soli Come detto Che hanno bisogno Del calore Del calore umano In questo caso Di donne vestite Da bambole Però Posso dirvi Che questo numero 5 Delle Morgan Lost Fear Novels La casa delle bambole Mi è piaciuto In linea più o meno Con i precedenti Quattro numeri Di questa serie Di questa stagione Di Morgan Lost Morgan Lost Ragazzi È un fumetto Come detto Già più volte Che Purtroppo Non ha il successo Che magari aveva Avuto con la prima stagione Con le vecchie stagioni Si è un po' perso Per molti Per me Che ho iniziato a leggere Ufficialmente Delle screen novels Cioè dall'anno scorso Mi piace Mi piace ancora Perché mi dà di Cioè c'è il genio Alla pazzia Dell'autore Claudio Chiaverotti Che a me è sempre piaciuto Certo Come detto Magari Soprattutto in questo numero Non vedremo qualcosa Di originalissimo Perché come detto Sulle bambole Si è fatto di tutto ormai Però C'è il tocco speciale Di Morgan Lost Cioè c'è il tocco Proprio del personaggio E del fumetto In sé per sé Con lui Che deve dare la caccia A questo spietato Serial killer Anche lui Vestito da Da pupazzo Insomma E soprattutto Di queste donne Che chiamano i loro clienti Pupazzetti Questa cosa Mi ha toccato molto Cioè nel senso Non che mi ha toccato Proprio personalmente Mi ha Comunque Mi ha fatto pensare molto E anche il finale Che non vi svelo È stato molto Ha toccato un po' Le corde Della mia sensibilità Quindi secondo me È un buon numero Fatemi sapere nei commenti Se avete acquistato Questo numero Se vi è piaciuto La copertina Di Fabrizio De Tommaso Se acquistete anche Il prossimo Il numero 6 Delle Fir Noves Excalibur Insomma ragazzi Io Vi ringrazio Per aver visto il video Vi ringrazio Per il supporto Mi raccomando Fate i bravi E ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi Ciao